Abbiamo già parlato delle interazioni tra impianto Wi-Fi, tra ambiente e basse frequenze. Non abbiamo invece parlato delle interazioni tra impianto, ambiente e alte frequenze, medio-alte. E' quindi il caso di farlo, sempre in maniera leggera, non approfonditissima, sempre per amatori evoluti, non professionisti, negli studiosi di distrazione, negli ambienti di lavoro, ci sono fior di professionisti che si occupano del trattamento acustico, quindi non è questo il nostro caso, ma possiamo dare qualche indicazione su ad esempio come spostare i nostri diffusori oppure come spostare l'arredamento o spingersi fino all'adozione di qualche materiale di trattamento acustico per migliorare la nostra esperienza d'ascolto. Prima delle ricettine dobbiamo capire di che cosa parliamo. Allora facciamo un esperimento, come quello dell'altra volta, dove abbiamo chiamato un nostro amico. Richiamate questo amico del quale vi fidate ciecamente, consegnategli un foglio con le istruzioni, chiedetegli di bendarvi gli occhi, di mettervi una molletta sul naso, un pezzo di scotch sulla bocca e di lasciarvi aperti solamente le orecchie, l'unico senso che avrete a disposizione. Poi sul foglio di istruzioni ci sarà scritto di accompagnarvi in cantina e di parlare con voi da un metro di distanza, poi di fare la stessa cosa portandovi però su un balcone, poi di fare la stessa cosa, di parlarvi quindi da un metro e mezzo di distanza in bagno, nel vostro bagno piastrellato e poi ancora in garage, nel garage completamente vuoto e poi chiedetegli di accompagnarvi in una palestra, di farvi il solito discorsetto e alla fine pagategli il biglietto per portarvi nel Grand Canyon e gridare all'alta voce il vostro nome. Sono sicuro che nessuno di voi l'avrà fatto, ma probabilmente con un leggero sforzo di fantasia avrete intuito che sebbene abbiate solo le orecchie per capire dove vi trovate, riuscirete a capire che il vostro amico vi sta parlando alternativamente dal bagno, dal balcone, dal Grand Canyon o dalla palestra. Questo è dovuto appunto alle rifrazioni che l'ambiente intorno a voi ricrea rispetto alla voce di chi sta parlando, che non è un altoparlante, in questo caso era il vostro amico. Ora cominciamo a sgombrare il campo piano, arriveremo al nostro scopo, ma per il momento liberiamo il campo da echi e riverberi. Nel Grand Canyon quello che sentirete, cioè prova, ova, 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 è un eco, quindi la lunga distanza, la superficie piatta della parete molto lontana da voi, dà origine a una singola riflessione del segnale originale, distanziato nel tempo a sufficienza per discernerlo come separato. Prova, ova, 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 ova. Il discorso è leggermente diverso in palestra o in una cattedrale, dove anche lì è facilmente riconoscibile un alone intorno alla voce, tipica appunto della cattedrale o della palestra, quello è il riverbero, che non è dato da un singolo rimbalzo, ma una migliaia, forse milioni di riflessioni che la voce originale ricrea riflettendosi lungo le pareti più e più volte per poi arrivare al nostro orecchio man mano decrescendo di intensità, creando quel valore che si chiama RT60, che è l'unità di misura appunto del riverbero, quel alone intorno alla voce tipico delle palestre, dei tunnel, degli ambienti molto grandi. Questo non c'entra con il nostro esempio, a meno che non abitiamo a Versailles. Il nostro ambito di lavoro sono quelle che invece si chiamano le prime riflessioni, early reflection in inglese, sono quelle riflessioni che si hanno nelle stanze piccole, nelle small room, sempre per ripetere un gergo che è tipico degli studi di registrazione e delle apparecchiature adesso pertinenti. Quindi quelle riflessioni che arrivano al nostro orecchio dopo un lasso di tempo molto breve, cioè che dice 20-50 millisecondi, insomma in un termine estremamente breve, che l'orecchio non riesce a distinguere come separate dal segnale originale, ma che caratterizzano fortemente il segnale stesso, facendoci capire, ascoltando il nostro amico sul balcone, quindi senza prime riflessioni, se siamo nel garage, cioè con delle riflessioni importanti visto che il garage è vuoto, se siamo nel bagno con altre tante potenti prime riflessioni visto che il bagno è molto piccolo e anche piastrellato, o se siamo nella nostra sala dove le prime riflessioni saranno più tranquille perché l'ambiente è un po' spezzato. Ecco, l'ambito del lavoro nel quale stiamo operando è proprio quello delle prime riflessioni, non quello del rimbombo, non quello dell'eco, non quello del riverbero, che invece verranno trattati in altri casi. Beh, se allora queste prime riflessioni sono così dannose, è facile trovare la soluzione, rivestiamo tutto il nostro ambiente di materiali fonoassorbenti e abbiamo risolto il problema? E purtroppo no, anzi abbiamo peggiorato le cose perché un po' di riflessioni ci vogliono, nessuno di noi vive in un ambiente anecoico, che vuol dire senza eco, nessuno di noi ci è mai stato e mai ci sarà, anche se voli con un deltaplano a 3000 metri di altezza, avrai comunque una superficie sopra di te, la vela, che comunque rifletterà qualche cosa, ti darà la sensazione di essere sotto una vela di deltaplano. Quindi togliere completamente qualsiasi riferimento rispetto a dove stiamo ascoltando il nostro impianto non va assolutamente, avremo una sensazione decisamente innaturale, sgradevole, che in alcuni casi porta addirittura a attacchi di panico. Quello che dobbiamo evitare assolutamente invece sono una dose importante, invadente, di prime riflessioni che caratterizzeranno fortemente l'ascolto del nostro impianto. Quindi le riflessioni del nostro ambiente ci sono e ci devono essere, non devono essere fortemente caratterizzate nella quantità e qualità. Come fare? Beh, le prime riflessioni sono dovute alle pareti più vicine alle casse ovviamente, quindi cercheremo, ove possibile, di allontanare i diffusori dalle pareti. Non è cosa facile, ne sono pienamente consapevole, però ad esempio se una parete è molto vicina e l'altra lontana cercheremo una simmetria per non fare in modo che una si comporti in maniera molto diversa dall'altra. Se i diffusori sono appoggiati su una superficie piana cercheremo di fare in modo che questa superficie non ci sia davanti al nostro diffusore, cosa che tra l'altro spessissimo capita in home studio, dove i monitor vengono messi davanti a una superficie molto riflettente, da rivedere questa cosa. Cercheremo quindi di minimizzare l'effetto delle pareti adiacenti alle casse, allontanandole o, secondo seconda possibilità, usando l'arredamento. Ad esempio potremmo usare o posizionare le nostre casse a fianco di librerie o di tendaggi magari pesanti. In questo modo minimizzeremo l'effetto riflettente che hanno le pareti vicine alle casse rispetto a noi. Negli studi di registrazione chiamano l'insieme degli accorgimenti di questo tipo con un acronimo in italiano LEDE, live and dead end, cioè in pratica si cerca di rendere la porzione di stanza fino ai nostri diffusori dead, morta, assorbente, la porzione di stanza dai nostri diffusori fino alle nostre spalle live, cioè riflettente, parte assorbente, parte riflettente. Questo per avere appunto una parte comunque viva, quella delle nostre spalle per non cadere nell'equivoco dell'anecoico, e una parte assorbente, quella vicino alle casse, per evitare il più possibile le prime riflessioni. Possiamo, come abbiamo detto prima, persino spingersi ad adottare dei materiali fonoassorbenti, so che tra poco ci saranno dei video, magari proprio su FDigitale, che riguardano proprio questo argomento. Dicevo di utilizzare dei materiali fonoassorbenti da posizionare nelle immediate vicinanze adiacenti alle casse, sia alle pareti, sia addirittura al soffitto, proprio per andare ad assorbire queste famose prime riflessioni. Ma perché queste prime riflessioni sono così dannose e dobbiamo evitarle? Perché nella registrazione originale, in quello che noi andiamo ad ascoltare, ci sono già le prime riflessioni che caratterizzano l'ambiente dove è stato registrato questo evento sonoro. Se noi gli andiamo ad aggiungere una forte connotazione del nostro ambiente, lo andiamo un pochino a snaturare, anzi decisamente a snaturare. In fondo stiamo parlando di Hi-Fi, che guarda caso vuol dire alta fedeltà, cioè sbaglio, o dobbiamo cercare di ascoltare nella maniera più fedele all'originale quello che nel nostro CD e nell'Ole, non solo nel nostro avvenile. Se noi ci andiamo ad aggiungere una forte connotazione del nostro ambiente, lo snaturiamo fino a rovinarlo. Ecco perché vi sto quindi suggerendo di fare in modo che il vostro impianto abbia delle prime riflessioni il più possibile attenuate o frazionate o diluite, non fortemente caratterizzate, neanche assenti, non sarà possibile, ma il più disordinate, disomogenee e frazionate possibile appunto. Anche la parte posteriore rispetto alla nostra posizione di ascolto avrà probabilmente bisogno di un trattamento. Allora non si tratta più di prime riflessioni, quelle che arrivano dal fondo della sala. Il suono dalla cassa al fondo della sala per poi ritornare alle nostre orecchie avrà trascorso un certo spazio e un certo tempo, in modo che non si possono più probabilmente chiamare prime riflessioni, ma comunque possono risultare invadenti. Allora che fare sul retro? Abbiamo detto di non renderlo acusticamente morto, ma anche in questo caso possiamo fare in modo di rendere la presenza del fondale meno invadente, quindi rompendo il più possibile le riflessioni che arrivino da dietro. Ci sono anche in questo caso dei materiali apposta, molto usati negli studi e registrazioni, ma che vedo che cominciano ad apparire, anzi ci sono da un po' anche per un uso in stanze civili, stanze private. E comunque possiamo, senza svenarci, fare in modo di rendere la parete posteriore il più disomogenea possibile, quindi assolutamente non uno specchio, ma una libreria. Tendaggi, poltrone, quadri, qualsiasi cosa che spezzi le simmetrie il più possibile e renda le riflessioni le più casuali possibili, le più disordinate possibili, quasi irriconoscibili. Se volessi fare un riassunto di questo mio intervento, lo riassumerei dicendo che le problematiche relative alle alte frequenze negli ambienti di ascolto casolinghi sono quasi tutte da ricercare nelle prime riflessioni, che sono dannose perché il cervello umano sembra non riconoscerle, ma invece fa in modo di colorare fortemente l'evento sonoro che stiamo ascoltando. Abbiamo detto che non le possiamo né le vogliamo cancellare completamente queste riflessioni, prime o seconda o terza che siano, ma dobbiamo rendere il più possibile casuali e disordinate, in modo da diluirle e di non caratterizzarle fortemente. Trattare acusticamente un ambiente è una scienza che ha delle professionalità, come abbiamo visto prima, dedicate esattamente a questo lavoro. Non sono certo io che voglio sostituire queste professionalità, ma sappiate che negli studi di registrazione, ad esempio, affrontare le problematiche relative all'ambiente vuol dire partire dal momento in cui entrano i muratori nella stanza, cioè ci sono delle misure precise da rispettare o da evitare per costruire la nostra sala di registrazione, la sala di control room. Ci sono dei rapporti tra le varie dimensioni che va all'interno del quale bisogna stare per ottenere una zona aurea, appunto, per quanto riguarda l'altezza, larghezza e lunghezza della nostra sala di controllo. Ci sono materiali, strumenti, algoritmi per fare in modo di avere una buona sala di controllo. In pratica, ancora una volta, evitando che abbia una propria forte personalità. Ma tutto questo è una cosa che riguarda, abbiamo detto, gli studi di registrazione. In casa questo non è possibile, non roviniamoci la vita alla ricerca dell'El Dorado. Però possiamo provare ad adottare qualche accorgimento per vedere di migliorare il nostro bellissimo impianto Wi-Fi o di diffusione sonora che abbiamo acquistato con tanto amore e cura e che non vogliamo che venga rovinato dall'ambiente nel quale l'abbiamo obbligato ad operare. In bocca al lupo per le prove tecniche che spero farete e a presto sul canale YouTube di www.ilmicrofono.it www.ilmicrofono.it